Qual è l'obiettivo del convegno? L'obiettivo di questo convegno, congiunto con la nefrologia, con l'unità operativa di nefrologia, è quello di fare il punto e di creare i presupposti per un miglioramento dei trattamenti che facciamo nei nostri pazienti, i quali sono pazienti estremamente delicati, perché i pazienti che arrivano soprattutto in ambito cardiochirurgico sono dei pazienti che si portano dietro una serie di patologie che sono legate alla loro patologia di base e che possono essere esacerbati proprio dalla tecnica estremamente complessa degli interventi cardiochirurgici. Il titolo del convegno è Un amore controverso, perché? Perché è un confronto, incontro tra diversi specialisti e spesso l'amore, come lei pensa, qualche volta è controverso, però è sempre finalizzato ad un risultato e ad un obiettivo comune, che è quello il miglior trattamento per il malato. Oltre al programma del convegno, l'importanza di questo convegno? Beh, il convegno è importante perché anche il coronamento di 18 anni di collaborazione stretta con i rianimatori, che al di là di quelle che abbiamo detto prima dell'amore controverso, è stata una collaborazione attiva, fattiva, che nel corso degli anni ci ha portato ad implementare le metodiche di sostituzione della funzione renale in pazienti che, come ha detto prima il dottor Taraschi, sono pazienti comorbidi, con gravi problematiche. Per questo troverà nel programma l'intervento degli infettivologi, degli internisti e di tutte le professionalità coinvolte nella gestione di pazienti ad alto rischio ed estremamente complessi.